In questo tutorial vedremo come possiamo richiedere ai nostri alunni di esporre oralmente un argomento e come questi possano completare il compito esponendo appunto a voce e consegnando un video. Vediamo su lavori del corso, ho già creato sotto forma di bozza per velocizzare questo tutorial e vediamo che ho titolato il compito esponi oralmente l'argomento della deriva dei continenti e nelle istruzioni utilizza l'app Classroom sul cellulare o sul tablet per registrare il video della tua esposizione orale e consegnalo per completare il compito. Assegno il compito. Il prof oggi sul Classroom mi ha dato un compito molto particolare. Esponi oralmente l'argomento della deriva dei continenti. Utilizza l'app Classroom sul cellulare o sul tablet per registrare il video della tua esposizione orale e consegnalo per completare il compito. Vediamo come posso esporre oralmente. Aggiungi allegato Usa fotocamera Video E avvio la registrazione Espongo oralmente la deriva dei continenti, eccetera, eccetera, eccetera Terminata la mia esposizione orale Clicco su Stop Clicco su Usa video Attendo che il caricamento si completi Contrassegno come completato E infine consegno Il compito è stato consegnato Fine Tutto . . .